Hop, 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 amare, vieni un attimo, hop, hop, vedi quando sono brava, hop, hop, non mi sfiera proprio, hop, ho imparato a fare questo, vedi? Ma che gioco è questo? Scommentiamo anche se chiudo gli occhi, riesco a farlo anche a occhi chiusi, hop, hop. Scusate, fai, conta fino a tre. Sì, andiamo, tre, due, uno, vai. Questa è mia mole Elena, ha 33 anni, stiamo insieme da 13 anni e io continuo ancora ad aspettare quando la smetterà di fare queste stronzate e diventerà una persona responsabile. Così, finalmente, inizierà a prendersi cura di me e di nostro figlio. Che cavolo.